ciao amici vi piacciono i mandarini secondo me sono un frutto irrinunciabile in inverno sono buoni e hanno anche numerosi benefici per la salute aiutano a dimagrire proteggono l'intestino riducono il colesterolo cattivo ho visto che fanno anche il gelato al mandarino goloso e non solo con il mandarino si possono fare torte risotti condimenti scopriamo subito insieme i segreti del mandarino se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video il mandarino non è calorico 100 grammi contengono solo 72 calorie le sue fibre aiutano a dare un bel senso di sazietà e a perdere peso infine riducono il rischio di malattie cardiovascolari ictus e infarto il mandarino è ottimo per gli spuntini quando vuoi saziarti senza rinunciare alla linea ma senza esagerare perché è ricco anche di zuccheri il mandarino è un agrume quindi ottima fonte di vitamina c antiossidante che potenzia il sistema immunitario contro i malanni di stagione contiene anche vitamine del gruppo b acido folico utile per le donne in dolce attesa e bromo che concilia il sonno e il buon riposo ecco una buona ricettina per fare un'insalata con i mandarini ingredienti radicchio rosso pomodorini rucola carote grattugiate e spicchi di mandarino per il condimento una vinagrette freschissima a base di olio di oliva salsa di soia succo di limone un po di senape e succo di mandarino avete visto amici quanti sono i benefici e gli usi del mandarino per vedere tanti altri video sui migliori alimenti per la salute e la forma fisica è facile iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale la salute è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile mangia sano e vivi meglio